Cari amici, l'argomento di oggi è perché non si migliora. Tante volte vi allenate, fate esercizi diversi, provate ad imitare i campioni, però vi accorgete che il vostro livello rimane sempre lo stesso. Come è possibile? È possibile perché nelle sessioni di allenamento probabilmente l'impostazione non è quella corretta. Sicuramente dipende dal livello di partenza di ognuno di noi, quindi quello che si dice in gergo talento, c'è chi è più talentuoso, c'è chi è meno talentuoso, ma anche chi non è talentuoso per niente può imparare e arrivare anche ad alti livelli e questo vale in qualsiasi sport. Alti livelli è abbastanza relativo, può essere un agonista, può essere un semiprofessionista, forse un vero grande professionista non ci arriverà mai senza un minimo di base coordinativa, di base fisica e anche di base mentale, ma comunque il livello che può raggiungere è molto più alto di quello che si possa pensare. Perché quindi non si migliora? Non si migliora perché l'impostazione non segue molte volte due principi importantissimi della teoria e metodologia dell'allenamento. La teoria e metodologia dell'allenamento dice che ogni qualvolta vogliamo impostare una sessione di allenamento dobbiamo rispettare uno, un metodo e il metodo può essere un metodo globale, un metodo complesso, un metodo analitico. Che vuol dire? Un metodo globale vuol dire che se davanti a noi c'è una persona, un atleta talentuoso, possiamo insegnargli direttamente quello che vediamo. Quindi vediamo in televisione un giocatore che fa un colpo, effettua un colpo in un certo modo e proviamo ad imitarlo e quasi per miracolo ci accorgiamo di riuscirci dopo pochi tentativi. In quel caso là, caso molto raro però, abbiamo davanti una persona che è molto talentuosa. Non vuol dire che sia però talentuosa in ogni cosa che fa. Potrà essere talentuosa in alcuni aspetti dell'allenamento, in alcuni aspetti dell'apprendimento, ma non in tutti. Ed è proprio in quelli che anche un talento ha bisogno di ricorrere ad un metodo che sia o complesso o addirittura analitico. Quindi il complesso mette insieme un po' il metodo globale, quindi alcuni esercizi effettuati direttamente molto simili a quelli che vediamo e che appartengono all'esecuzione finale. Mentre il metodo analitico è proprio una scaletta vera e propria. Si parla di progressioni didattiche. Queste progressioni didattiche, quanto più siamo in difficoltà, tanto più devono essere graduali. Quindi devono rispettare degli step che ci permettono di imparare un poco alla volta, sino a raggiungere l'obiettivo finale. Ma quindi bastano solo questi metodi e l'applicazione, lo studio di questa impostazione? No. C'è bisogno di, purtroppo non è così semplice, c'è bisogno di inserire all'interno di questi metodi dei mezzi di allenamento. Quali sono i mezzi di allenamento?